I love this place, bellissimo, è tutto buonissimo tra mozzarella di bufala e dolci e gelati e yogurt e creme è impossibile resistere guarda lo stile che mi piace tantissimo no vabbè io potrei vivere qua e te bellissimo no io mi ci tufferei in quelle piscine di bocconcini di bufala mamma mia cioè loro la stanno come dice mia sorella tecnica del mestiere la stanno mozzando ecco perché si chiama mozzarella ci sono dei turisti mi pareva che non trovavo turisti americani ora mi devo mettere a parlare con loro per forza c'è anche la guida che sta spiegando nooo ha spiegato che la parola bucconcini deriva dalla parola bocca quindi little mouth piccola bocca adesso filano cioè allora hanno tagliato la tagliata a peccettini adesso la tagliano in parti essendo piccole e poi credo con l'acqua calda la filatura io ho anche la tecnica, la guida esperta qui ecco qua ecco qua no vabbè adesso fantastico adesso fanno proprio la pasta della macchina ah ecco la temperatura dell'acqua è altissima certo perché quella deve filare adesso si sceglie e fila e adesso inizio a filare poi la passano nell'altra maschina guarda che è maestria guarda che è l'ultima ottima i casari si no vabbè ma è fantastico e adesso si inizia a vederci la pasta filata no vabbè ma la maestria di questi casari adesso togliela e resta solo la pasta filata resta soltanto la pasta filata i ragazzi che sono qui sono sono americani ovviamente ed è una scuola sono in gita in italia a vedere la mozzarella di bufala da man face cioè incredibile American ed ecco la mozzata no vabbè adoro per la pasta filata è per la pasta filata la pasta filata ha provato di aver provato ero? un po' non si lo si si Ho fatto un po' di conversazioni con i ragazzi americani che stanno in gita qui, Pompei, Ercolano, il Vesuvio, adesso Salerno per il gelato, si sono stati a Salerno per il gelato, Pompei, Ercolano, Salerno, il Vesuvio e adesso noi vediamo le piccole, mia sorella praticamente le vede tutti i giorni ma io la costringo a fare queste gite ogni volta che vengo a trovarla. Ma guarda quanto è messi questa, si è sporcato tutto il faccione, quanto so carine. Allora mia sorella ha detto che si è messa così con la testa a smuovere. Fieno? Questo in realtà è un infilato. Eh vabbè, questa dice cose tecniche. Fieno, infilato, alimento concentrato. Adesso ci fa anche l'analisi chimica. Ciao, ma sei bellissima. Sì, guardate l'esperta qui. Fieno infilato e sicuramente ci sono dei concentrati, cioè degli scarinati all'interno. E lei col musone lo ha scartato perché si sceglie la parte che le piace di più? Sì, è la parte migliore. Ah, ma sei una furbona. Questa tappica di alimentazione serve proprio per evitare che loro scartino. E invece loro scartano. E loro si provano. Cosa ti è successo? Sei pensierosa, tu ti sei messa in castigo da sola. Cos'è sociale? Perché lei sta tutta qua zitta zitta? Sai? Sto proprio di spalle della sera e non voglio stare con nessuno. Lasciatemi in pace sulla sociale domenica. Non c'ho voglia di fare niente oggi. Niente, lei è vecchietta. Stanta e lasciatela di parte. Veramente? Sì, vedi che è tornaria. Ah, è separata. No, non è separata. Ah sì, vedi, è chiusa. Guarda, quella è l'infermeria, quindi questo animale ha bisogno di riposo. Ma amore, scusa, loro non ti disturbiamo. Ciao. Non so se c'è, dalla faccia si capisce che dice... Lasciatemi, stai, c'ho anche un corno rotto. Basta. I'm done. Bye. Allora, mia sorella mi sta dicendo che loro... Dove devi pensare sull'alimento? Ah no, scusa. Che loro da qui vanno da sole a farsi mungere. Cioè, è incredibile questa cosa. Vanno là dentro, si fanno mungere, poi escono e tornano qui a mangiare. E' eccezionale questa cosa. E' eccezionale questa cosa.